Spero di continuare a essere utile non solo per questo territorio ma per tutta la regione, di continuare l'attività del mio predecessore che è stata un'attività che io ritengo fondamentale per il sindacato confederale abruzzese tutto e in particolare per la nostra Will. Spero di poter dare il mio contributo con umiltà e con senso di responsabilità sapendo che quello che aspetta il sindacato confederale nel confronto con le istituzioni soprattutto regionali saranno momenti di confronto anche aspro perché dobbiamo riavviare la macchina dello sviluppo di questa regione, la macchina della ripresa che è necessaria e che faccia sì che la nostra regione possa avere una ripartenza vera e forte. Io credo che le classi dirigenti attuali e future avranno un grande lavoro da fare per far sì che nell'ambito della nostra regione questa dicotomia che c'è tra luzzo interno e costiero soprattutto sull'aspetto dello sviluppo economico, sociale ed occupazionale si ristringa sempre di più e si cancelli definitivamente. La capacità di questa regione di essere una regione che guarda al nord e quando dicono al nord non penso solo all'Italia ma al nord Europa deve essere quella che tutta insieme sia una locomotiva per lo sviluppo. La stessa discussione, lo stesso pensiero penso all'Italia. Non può esistere ancora una discussione sul mezzogiorno che è arretrato, su un'economia che arretra, su un'economia che non cresce ma l'Italia ha l'esigenza di portare quest'area del paese, il sud del paese, nelle condizioni del nord del paese per crescere tutta insieme e far sì che il nostro paese, l'Italia, possa essere un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'Europa. L'Abruzzo ce la può fare secondo lei? Io sono ottimista di natura anche se ho un carattere calmo e tranquillo. L'Abruzzo ce la deve fare. Ce la deve fare perché ha tutte le risorse umane, le intelligenze intellettuali, le capacità professionali, un gruppo dirigente della nostra regione che deve per forza farcela fare alla nostra regione.